Bene amici dell'Essalto e Cord, questo è il Palio di Meda, vi faccio un breve video per farvi vedere questa fantastica manifestazione che c'è da tantissimi anni e praticamente coinvolge quattro rioni che sono la Begora, il Bregoglio, la Fameta e il San Juan questa è il rione Fameta, andiamo a vedere un attimino tutte le varie maschere, vi faccio un po' di zoom quest'anno non so quale sia il tema per il quale poi tutti i vari rioni fanno una sfilata quindi non saprei vedervi alla posa di Ernest, forse la Grecia potrebbe essere, la Grecia antica ma chissà quest'anno non so se non hanno più soldi ma non vedo carri, non vedo carri è la cosa bella, andatevi a vedere un attimino qualche maschera ancora qui eccoci bambini ci salutano, ciao! ci salutavano i bambini intanto sfruttiamo questo 20x di zoom ottico di Panasonic va bene per questo brevissimo video è tutto, ciao ciao!